Se avete del pane raffermo non buttatelo. Oggi andiamo a preparare una bella bruschetta. Seguitemi in cucina così vi elengo gli ingredienti e vediamo come preparare questa bella bruschetta. Per prima cosa tagliamo il pane in due parti uguali. O lo piastrate oppure se avete una padella antiaderente lo andiamo a preparare sui fornelli. Intanto io prendo la mia bella padella antiaderente e la faccio riscaldare un pochettino. E aggiungo al suo interno il mio pane. Faccio un po' di pressione con le mani così lo vado a schiacciare e aderisce anche meglio alla padella. Faccio cuocere entrambi i lati. Sarà pronto quando sarà bello biscottato ed ambrato. Ora vado a cuocere anche l'altro pane che mi è rimasto. Così dopo passiamo a vedere cosa ci mettiamo di buono sopra queste belle bruschettone. Ecco qua il mio pane è bello biscottato e pronto. Ora passiamo a vedere cosa ci mettiamo sopra. 2 belle mozzarella, 4 bei pomodori, aggiungiamo anche 2 scatolette di tonno, quanto basta di basilico e dell'olio extravergine. Cominciamo a sminuzzare la nostra mozzarella tagliandola a piccoli ubbetti. A suo interno aggiungiamo il tonno col suo olio, del basilico tagliato finemente, laviamo, asciugiamo i nostri pomodori e li preleviamo della polpa e dei semini a suo interno. E tagliamo anche i pomodori a cubetti. Aggiungiamo un pizzichino di sale e copriamo il tutto con dell'olio extravergine. Aspettiamo un poco che il nostro bello bruschettone sia bello freddo e così possiamo anche guarnirlo. Amalgamiamo i nostri ingredienti, prendiamo un bel piatto da portata e aggiungiamo il nostro bruschettone al suo interno. Ecco qua, comincio a prelevare l'olio così inzuppo per bene il mio bruschettone. Una volta che il mio bruschettone sarà bello inzuppato, mettiamo sopra gli ingredienti. Lo facciamo riposare 5-10 minuti e poi lo possiamo mangiare. E' una cosa sfiziosa, proprio per l'estate, bella, fresca e buona assai e così non buttiamo nemmeno il pane. Io spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima, ciao ciao!